ok siamo online ciao a tutti spero che mi sentiate e mi vediate hello everyone welcome to the fourth lesson on my sorcerer fatemi sapere se vedete e sentite attraverso i commenti che leggerò quarta parte del video corso di pastello sullo stregone andiamo avanti oggi allora ricordo quello che abbiamo fatto ovvero abbiamo fatto uno studio un disegno a mano libera della traccia di questo stregone abbiamo anche ciao a tutti intanto vi saluto ciao dominga ciao anna giulia dopo aver fatto la traccia abbiamo fatto un impostazione con i pastel pencil quindi un primo studio dei colori adesso abbiamo iniziato a utilizzare i gessetti quindi stiamo facendo sul serio oggi proseguiamo con i gessetti cerchiamo di finire ok credo si fosse disconnesso fatemi sapere se mi vedete mi sentite prima di cominciare aspetto qualche vostro commento e nel frattempo vi spiego che cosa facciamo oggi allora appunto utilizziamo sempre i gessetti per andare avanti con il viso dello stregone ripartiamo da due gessetti in particolare il gessetto nero della giro nero decisamente importante perché è un nero molto intenso e anche sempre della giro un rosso scuro che io amo e utilizzo tantissimo allora iniziamo utilizzare questo rosso scuro per l'inserto del sopracciglio di destra che avevo lasciato aperto per così dire nel senso che avevo lasciato uno spazio proprio per inserire questo rosso e andare adesso a creare una luce calda rossastra ovviamente mescolata con il giro nero perché da questa parte le ombre sono così tanto intense che abbiamo bisogno di mescolare questo rosso con il nero della giro per rendere tutto molto più scuro quindi nero più rosso gessetto utilizzo un po il dito per miscelare i due colori e come vedete si scurisce quindi si va a creare un effetto molto scuro poi passiamo ai pastel pencil e prendiamo il carbotello 330 che rosso porpora che ormai conoscete utilizzo in tutti i corsi non peraltro ma perché è veramente presente nella ritrattistica un sacco e in più mi piace tanto come colore quindi andiamo a fare questo lavoro proprio sul sui gessetti che ho passato quindi diamo una velatura di rosso scuro che aiutano l'amalgama dei colori ok ovviamente ci va la delicatezza in questa fase perché dovrà risultarne un effetto molto armonioso e appunto legato senza che ci siano macchie insomma troppo nette troppo visibili io addirittura aggiungerei ancora un po di nero perché questa è una luce che si vede pochissimo e io amo molto queste cose in pittura cioè queste cose che escono dal degli elementi che escono dal dalla completa oscurità e quindi che si vedono poco per cui facendo qualche passata vedete col gessetto della giro nero cerchiamo di lasciare questo rosso che si intraveda proprio appena appena cioè in maniera molto molto leggera deve essere un vedo non vedo quindi qualcosa del genere lo andiamo a soffocare abbastanza ok for all uh uh people from uh out uh outside of uh italy i remember that uh there are uh subtitles available after this live ok una cosa del genere mi può soddisfare andiamo avanti con il gessetto nero della giro completando ok il nero quindi questa parte ovviamente ha tanto nero il lavoro che avevamo fatto di studio con le matite con i pastel pencil quindi la stesura delle macchie principali che adesso viene completata con l'uso dei gessetti spingiamoci fino qua giù non andremo ancora a lavorare sul pizzetto perché è particolare e perché ce lo terremo buono per le lezioni successive dato che il pizzetto è un po più avanzato diciamo così quindi per studiare insieme la barba ok ho soffiato via un po di polvere una leggera stesura anche con l'uso del dito per ovviamente amalgamare tutto bene creare una pasta molto ben distesa e miscelata allora sulla reference probabilmente qualcuno di voi avrà notato che anche sotto l'occhio quindi qui per l'esattezza si intravede un po di rosso ancora meno rispetto a quello che c'è quindi io do qualche tocchetto con il mio giro rosso scuro e di nuovo lo vado a impastare insieme al gessetto nero e si crea una lievissima luce queste sono cose molto delicate però che se vengono fatte con i giusti dosaggi e la giusta sensibilità sono molto belle appunto perché ci dà il fatto di mettere un po di rosso qua sotto la sede dell'occhio ci dà la sensazione di proprio di vedere l'occhio di nuovo utilizzo il mio carbotello 330 per aiutare questo effetto poi in video probabilmente per via delle luci si vedrà più chiaro di quello che è nella realtà perché il nero il gessetto nero della giro è un gessetto che si mangia via tanta luce assorbe tanta luce uno dei motivi per cui è così intenso uno dei motivi per cui lo utilizzo spesso ecco una roba del genere ok sembra quasi di intravedere un po la luce sullo zigomo ora andiamo avanti allora questa volta prendo un altro nero io vi ho fatto prendere due neri per questo stregone l'altro nero è un gessetto nero della rembrandt e lo vado a utilizzare qui qui su questa parte sulla reference si vede molto bene che c'è un po di nero però siccome non voglio che sia un nero potente come quello della giro utilizzo il mio rembrandt che è un po meno forte quindi questo è un altro di quei trucchetti adesso lo mischio con il rosso giro che ci consente di dare molta più come dire raffinatezza al nostro dipinto quindi utilizziamo dei neri diversi non sempre lo stesso nero io non utilizzo mai un solo nero perché neri diversi con intensità diverse creano giochi di ombre molto molto belli perché possiamo giocare su questo aspetto della diversità dell'intensità delle ombre sempre il mio carbotello 330 per andare a legare di nuovo questa parte dove si intravede un po del viso per via dell'ombra che c'è sopra creata dal cappuccio sto lavorando sul confine dell'ombra faccio una velatura col mio rosso anche su questa parte della pelle perché con questo colore perché poi andrò a mettere un po di luce ma siccome una velatura di rosso rimane sotto mi fa l'effetto di dare quando io dico che come se desse un po di sangue alla pelle nel frattempo anche se non lavoriamo oggi al pizzetto mettiamo con estrema leggerezza qualche tocco di rembrandt nero quindi non il giro che sarebbe troppo potente proprio qui sui baffi ok per dare una lieve base scura ai baffi in questo modo ora vado a prendere il carandascio numero 583 per andare a lavorare un po su questa parte della pelle che come dicevamo poco fa in ogni caso è illuminata riprendo anche un po la cartilagine del naso e piano piano con delicatezza andiamo a lavorare su questa parte della pelle così il colore della pelle diventa più giusto diventa simile a quello del naso andremo a dare della luce dopo con degli altri pastel pencil ok iniziamo a creare il giusto effetto 330 io a poco a poco credo che smetterò di dire i numeri dei colori per diversi motivi primo perché dopo un po li sapete a memoria li conoscete e questo è uno degli obiettivi dei corsi cioè conoscere i colori in modo da darvi anche autonomia sull'uso degli stessi ma anche per il fatto che in questo particolare caso stiamo facendo un corso nel quale io vi ho dato un elenco del materiale quindi i colori che ho io li avete anche voi per cui non è difficile vedere e capire quale colore sto usando di volta in volta ok adesso vado a prendere invece un altro carbotello del 642 un caput mortum chiaro che ha sempre questo effetto rosa ok però è una tonalità leggermente diversa quindi mi fa comodo che vada a lavorare insieme al 583 a volte quando faccio questo genere di cose soprattutto a video dove state vedendo voi sono cose che sembrano impercettibili e mi rendo conto di questo però la mia esperienza mi dice che utilizzare dato che stiamo facendo pittura diversi colori insieme fa ottenere delle miscele particolari che si avvicinano molto di più al risultato quindi è un uso dei colori pensato ok adesso ho utilizzato un po' di porpora 330 per il confine dell'ombra qua lassù in alto e infine 681 della carbotello che è la mia luce in questo caso per andare a creare appunto l'effetto di luce su questa parte frattempo vedo che siete in quattro collegati quindi come al solito io vi voglio ricordare che se avete delle domande da fare potete approfittarne sia per sapere qualcosa che desiderate conoscere di cui siete curiosi ma anche perché poi è un video che rimarrà online quindi darà la possibilità ad altri di leggere le risposte ok quindi lavoro di luce fatto in questo modo voglio anche ricordare che normalmente poi si prende un po di tempo e lo faremo anche noi alla fine del corso per tutto ciò che riguarda i perfezionamenti quindi nel frattempo noi andiamo avanti procediamo però riserveremo un po di tempo alla fine del lavoro per andare a perfezionare delle zone soprattutto perché una volta che si ha una visione di insieme è molto più facile andare a rilevare delle zone dove capiamo che c'è bisogno di intervenire allora faccio a proposito di perfezionamento una piccola cosa con il rosso 305 della carbotello quello che ne rimane inserisco una piccola luce qui sicuramente sulla vostra reference vedrete anche voi che c'è una piccola macchietta qua ecco amo fare queste cose ok cosa facciamo adesso allora questa volta lavoriamo un po sul cappuccio quindi c'è da fare ci sono da fare due cose sostanzialmente la prima è quella di andare a lavorare intorno alle parti chiare del cappuccio dove si intravede un po del colore del ricamo del bordo abbiamo fatto lo studio con i pastel pencil vi ricordo durante la seconda lezione vado a utilizzare il nero giro intorno a questo bordo del cappuccio per avere il colore nero che comunque va a cingere tutta la parte come si può ben notare possiamo mettere in tranquillità il giro il gessetto della giro nero qua intorno perché comunque ce n'è parecchio ok allora cosa facciamo adesso tanto per cominciare un po con il dito per amalgamare creare una buona unità con tutto il resto e poi quello che facciamo è praticamente quello che abbiamo fatto all'inizio della lezione qui sull'occhio quindi vado a utilizzare il mio rosso scuro della giro ok così è ovviamente troppo chiaro quindi adesso con il nero vado a sporcare un po il rosso quindi lo passo sopra ma con una pressione minima ovviamente molto diversa da quella che ho usato prima c'è un punto qui dove addirittura il nero fa scomparire diciamo il pezzo del bordo del cappuccio quindi l'ombra che si mangia via un po di cappuccio e poi qui di nuovo andiamo utilizzare il giro nero sopra vedete andando un po praticamente a coprire il rosso in modo che rimanga visibile la parte del cappuccio ma rimanga appena appena visibile il dito adesso allora questa è una cosa importante perché spesso mi chiedono usiamo i gessetti passiamo il dito e vedo passare il dito in maniera circolare andando a prendere praticamente tutto non è così che si fa io quello che consiglio è di utilizzare il dito veicolando sempre le forme quindi usatelo con cognizione di causa quello che sto facendo io adesso è lavorare intorno a questa parte visibile del bordo del cappuccio cercando comunque di restituire la forma le forme che vedo quindi senza perderlo e andare soltanto a impastare tutto ok vedete che così è molto molto inglobato ok dentro dentro il nero e adesso di nuovo come l'altra volta con il mio colore carbotello 330 questa volta utilizzando la punta vado a creare proprio con la punta questo filo di luce questa bordatura del cappuccio spezzandolo anche in due striscioline come si vede sulla reference in questo caso che poi si vanno a unire ok se lo fate bene con calma verrà un effetto molto bello aggiungiamo un po di nero intorno sempre per lasciare visibile solo appena appena quello che ci interessa carbotello 330 ok stessa cosa qui e andiamo a lavorare con il 330 solo per tirare un po fuori appena appena ok così mi soddisfa dopodiché allora andiamo avanti prendiamo un colore particolare che è il prugna della carandasche il 105 che in questo caso mi fa da luce quindi io vado qua sopra e metto queste lucine che vedete che ci sono sopra il cappuccio c'è qualche pezzo del riccano illuminato e se facciamo questo lavoro sopra il porpora verrà bellissimo così dopo di che lo stesso medesimo lavoro è da fare sul resto del bordo del cappuccio quindi andiamo inserire il nero intorno nero della giro ovviamente non quello della rembrandt altrimenti ve lo direi qui basta seguire tutto il percorso che c'eravamo già nello studio per l'appunto studiati quindi sappiamo dove andare ad agire il setto della giro molto intenso vedete che fa anche abbastanza polvere ricordatevi di tanto in di dare una soffiata alla polvere in eccesso per evitare di fare danni allora iniziamo inserire una macchia nera qui perché come si vede molto bene qui di nuovo la luce non lascia scusate l'ombra non lascia vedere il colore del cappuccio quindi una bella macchia nera proprio come vedo dalla reference poi altra cosa importante nonché interessante prendiamo il bordo del giro quindi la parte più tagliente e vado a tracciare una linea mi raccomando guardate bene le proporzioni la parte alta è più piccola quella sotto è più grande e andiamo a creare anche noi questa linea che si intravede che divide un po il ricamo del cappuccio e che addirittura sulla parte in cima si vede un po è vero che un cappuccio non è un naso quindi nel senso se sgarrate di poco non è un problema adesso ho passato il giro con una pressione minima e poi è la stessa cosa che ho fatto a sinistra e ma l'ho fatto al contrario ho messo prima un po di giro nero e poi adesso un po di giro rosso scuro che si andrà a mischiare insieme al nero e lavoriamo questa prima parte di nuovo col dito andando a veicolare le forme vedete che giro intorno a questa forma quindi non vado semplicemente a spattasciare a mischiare tutto con l'incuranza vedete faccio in modo che il nero penetri e si prenda un po del colore rosso e viceversa però deve comunque rimanere visibile il mio cappuccio una volta fatta questa cosa qua intanto mi pulisco un po le dita che si sporcano di gessetto con una salvietta umida ricordatevi poi se dovete usarle di nuovo le dita dopo averle pulite ovviamente devono essere asciutte perché tutto ciò che è bagnato non va d'accordo con il pastello che è secco per definizione quindi di nuovo porpora 330 e andiamo a lavorare sopra il rosso cercando di tirare bene fuori queste forme e questa volta con la matita che è un po più facile da utilizzare seguendone bene anche in questo caso i bordi qui il nero lo faccio di nuovo un po spostare qua dietro uso sempre il rosso 330 ma con una pressione già diversa perché anche in questo caso come sempre succede come spesso succede la pressione diversa utilizzata da un'intensità diversa al colore nella parte qua davanti ho fatto un po più di pressione perché il colore deve uscire bene c'è più luce qui utilizzo bene la punta perché mi sembra di vedere proprio solo proprio una striscetta di un millimetro andiamo poi a far fare questa bella curva come si deve del cappuccio restituendo anche la fedeltà appunto delle forme ok e poi qui infine questo pezzetto che di nuovo è un pelino più scuro rispetto a quello davanti adesso poi ci sarà il prugna della carandasche che andrà a creare maggiore differenza perché lo utilizzeremo solo per mettere le luci facciamolo subito e andiamo a utilizzarlo a partire da quassù per illuminare nonché esaltare questa zona del cappuccio qui io faccio piccoli tratti anche per creare questo effetto un po brillante scintillante del cappuccio stessa cosa qui prendiamo bene il bordo vedete vedete prugna che è un colore io l'uso tantissimo e lo trovo molto bello in più un colore che lì per lì uno lo guarda e dice ma è un colore scuro invece guardate in questo caso lo stiamo utilizzando per mettere della luce dietro praticamente non ne abbiamo a parte qualche piccolo tratto e qui di nuovo starà a voi alla vostra voglia la vostra pignoleria curarvi di più il cappuccio a me così soddisfa abbastanza so che ci tornerò sopra anche con un altro colore che potrei già utilizzare ovvero il rosso 305 della carbotello da mescolare un po lo so è strano però mischiato con questi colori crea decisamente l'effetto giusto e lo rende un po più luminoso quindi mi invito a provarlo è solo qualche segnetto eh non è niente di che ok e andando avanti quindi proseguendo col cappuccio niente il discorso è sempre lo stesso quindi proseguiamo con tutto il percorso vedete l'ordine con cui fate queste operazioni non cambierà molto l'importante che i colori utilizzati siano quelli adesso sto mettendo di nuovo il mio giro bellissimo rosso scuro vedete posso andare a sistemarlo già fino in fondo ok ne abbiamo anche un pochettino qui il giro nero che utilizzo dalla parte più appuntita diciamo tagliente prima di tutto per suddividere come avevo fatto di là con una linea centrale che sta più o meno qui ok e poi di nuovo andare a lavorare bene per unire il tutto attraverso l'uso del nero cercando di osservare sempre bene il percorso anche qui la striscia nera in mezzo è un pochettino e poi proprio come prima un po di giro nero anche sopra con una pressione diversa in modo da rendere più scuro il rosso soffio l'eccesso di polvere lavoro col dito veicolando bene il gessetto ok riparto con i miei pastel pencil sempre porpora 330 per iniziare ed ecco qua con un po più di pressione come sto facendo in questo momento nei punti dove vedo che c'è più luce qui il nero penetra un po dentro quindi con il dito sempre veicolo questi passaggi qua dietro non troppa pressione perché già è più scuro e si va già a perdere nell'oscurità proseguiamo cerchiamo di guardare bene dove sono situate proprio le strisce in modo da dare già una certa forma e riconoscibilità qui c'è una specie di diramazione che con il pastel pencil vorrei tirare un po fuori e addirittura nell'oscurità si intravede di nuovo un po di rosso che andiamo a sistemare qui così in frattempo ricordo anche a voi che siete connessi che oggi stesso farò un post su patreon nel quale spiegherò e aprirò soprattutto il nuovo livello un livello destinato alla consulenza online o lezioni online private comunque qualsiasi tipo di esigenza di chi si iscriverà a questo livello da un'ora al mese 50 euro al mese per avere un'ora con me per parlare di qualunque cosa quindi richiedere informazioni posso vedere i vostri lavori commentarveli valutarli darvi consigli possiamo parlare di pastello possiamo parlare di qualsiasi altra cosa legata alla pittura possiamo parlare di colore possiamo parlare di tecnica in questo caso vedete sto usando di nuovo il mio carbotello anche per creare un po questo effetto striature che c'è su questa parte del cappuccio come al solito vi chiedo sempre anche limite del possibile del un supporto anche promozionale di quello che è il mio lavoro sia di pittore ma sia anche in qualità di insegnante quindi se vi capita e se vi va di farlo parlate di me ne sarò grato ok ritorniamo pulisco le mani perché ho utilizzato molto i gessetti e ritorniamo di nuovo anche in in questo caso con il prugna il 105 della caran d'asce e anche qui facciamo un lavoro di illuminazione andando per l'ennesima volta a valutare dov'è che c'è bisogno di questa luce violacea cercando di farla venire fuori nei punti più importanti qui dove c'è la diramazione di cui parlavo prima un po lo spezzetto nel senso che non faccio una linea unica cercate ovviamente di essere un po precisi perché quello che poi vedranno i vostri occhi è il bordo del cappuccio quindi come sempre cerchiamo di creare qualcosa di credibile di verosimile di bello di suggestivo quindi guardate molto la reference ok utilizzerei di nuovo anche se sembra strano il rosso 305 per andare a toccare alcuni punti chiave che mescolandosi con gli altri rossi come vedete crea un effetto decisamente più interessante è come se fosse un riflesso ulteriore di luce sul cappuccio e poi dopo di questo non ho ancora finito perché inseriamo un altro colore ancora più chiaro ok allora dicevo inseriamo un altro colore ancora più chiaro nel senso che potremo prendere sempre il nostro 583 della carandasche che adesso sarà luminosissimo qui e andare a fare qualche tocchettino senza esagerare con la pressione per dare questo effetto ulteriore di luce ci possiamo anche aiutare con il cappuccio morto un chiaro quindi 642 forse un po' più rosa della carbotello che comunque conferisce più o meno lo stesso tipo di effetto per la parte bassa invece userei di nuovo il 583 carandasche perché guardate questa parte qua in fondo quanta luce ha e questo colore fa proprio il caso nostro per la parte bassa invece userei di nuovo il cappuccio morto un po' più rosa di luce ecco qua ok allora facciamo un'ultima cosa prima di chiudere la lezione di oggi che è quella di preparare solo delle macchie per il lavoro che faremo la prossima volta sul pizzetto siccome il cappuccio o meglio il contorno del cappuccio adesso lo abbiamo fatto il viso anche andiamo a prendere il nero della girò e iniziamo a stenderlo con molta delicatezza su questa parte perché come vedete c'è una macchia scura così ci prepariamo la parte qui il consiglio è quello di socchiudere i vostri occhi l'ho già detto in altri corsi ma è un consiglio che di tanto in tanto do perché è qualcosa che ci serve per capire meglio dove sono situate le macchie scure c'è questa macchiona molto grande ok possiamo anche utilizzare un po' il nostro blu scuro adesso per andare a creare anche in questo caso un'unità queste macchie sono una lettura di quello che è la parte non bisogna aver paura di mettere gessetto seppur dosato con una certa delicatezza e condizione di causa anche in questo caso ma è importante farlo perché poi su questa base lavoreremo la prossima volta vedete sicuramente come attraverso l'uso del gessetto i colori saltano fuori e come riescono a essere così forti e intensi prossima volta lavoreremo anche sulla bocca ok non più di così non più di nero e blu prossima volta continueremo la stesura partendo sempre dalla parte di sinistra ok allora molto bene altro step in avanti fatto preparatevi perché nella prossima lezione vedremo o meglio cominceremo a vedere non so se lo finiremo in una lezione però inizieremo a lavorare sul pizzetto sulla barba dello stregone quindi sarà una lezione particolare perché vi farò vedere come ottenere l'effetto del pelo della barba se avete domande potete scriverle nei commenti sotto sempre anche adesso che finisce la live perché il video rimane è disponibile e visibile apposta per voi grazie per aver seguito e alla prossima quindi buona domenica e a presto